La notizia, lugubre per gli amanti del cinema di nicchia, cinema d'arte de sé, è che hanno chiuso il cinema Sedra di Bari da una settimana. Parrebbe delinearsi un fenomeno allarmante che segue la stessa sorte di Oriente, Impero, Orfeo, Ambasciatori, Supercinema, Arena, Giardino, Jolly, Odeon e Armenise. Nell'ambito delle varie problematiche inerrenti a questo tema si valutano misure a sostegno delle sale per la loro ripartenza. Questa in particolare delle Sedra insieme allo splendore al piccolo ricordiamo che fanno parte dell'Acec, le sale di comunità gestite dalla diocesi e quindi dalle parrocchie che con tanti sacrifici le hanno portate avanti da sempre. Ora sono in difficoltà sempre per i debiti che si sono accumulati per via della pandemia e per il fatto che non si va così tanto più al cinema. Però l'amministrazione proprio oggi è oggetto di discussione con il sindaco e con il prete, con il parroco gentilissimo Don Tino che vogliamo in qualche modo aiutare. Noi come amministrazione siamo soci della Puglia Film Commission. Grazie alla interlocuzione con la Presidente Anna Maria Tosto stiamo provando a valutare l'idea che loro già avevano in campo di una misura a sostegno delle sale. Ecco proveremo a parlare di questo a fine luglio con Don Tino per fare in modo che l'attività da settembre riparta soprattutto quella dedicata alle scuole ma anche proprio alla programmazione cinematografica. Tenete presente che però a luglio-agosto le Sedra, io abito qua e lo so, ha sempre chiuso perché purtroppo ha necessità anche di ristrutturazione e non hanno la climatizzazione. Noi proveremo comunque a fare in modo che riparta la sua programmazione con gli strumenti a disposizione dell'amministrazione.